Siamo notati Gesù e Maria. All'omelia di oggi, ventisesima domenica ordinaria, fratelli e sorelle carissimi, questa prima messa domenica vorrei suddividerla in due parti. Nella prima dà un'occhiata alla parte centrale del Vangelo, quella in cui Gesù spiega in maniera ammirabile il valore importantissimo di un gesto anche minimo di carità cristiana e un riferimento alla seconda lettura che è attinente con questo piccolo insegnamento di Gesù, perché al contrario parla del pericolo, un grande pericolo, del lusso e delle ricchezze. Questa non è la prima parte. Parla la seconda, vorrei parlare un po' con voi del mese di ottobre che del mese del rosario, anche leggendo un comunicato che è arrivato ieri da tutte le parrocchie d'Italia e da parte del Santo Padre, Papa Francesco, che chiede a tutti noi di santificare in un modo del tutto peculiare questo mese del Santo Rosario. Vediamo brevemente insieme queste cose. Gesù da parte centrale del Vangelo ha detto queste bellissime parole che dobbiamo ricordare. Chiunque vi darà davvero un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricontenza. Questo piccolo passaggio ci fa comprendere quanto è gradita al Signore una piccolissima, anche minima, opera di carità, voglio dire così. Un bicchiere d'acqua. Io ho già fatto un po' di interventi qui in questa parrocchia, le farò ancora, raccomandando di essere generosi nel dare e nel condividere i nostri beni. Le opere di misericordia corporale e le elemosi. È l'unico modo per portarci un po' di soldi dall'altro e nell'altro mondo, perché altrimenti li dovremmo lasciare tutti qui. E se Gesù dice, sta al vento, hai anche un bicchiere d'acqua, io te lo ricompenso, quanto più ricompenserà le opere di misericordia fatte. Tenete presente, io come spodante organizzazioni, ve lo dico per informazione, se qualcuno desidera impegnarsi in queste cose, vi prego, mi lo comunichi, adottare un bambino nel quarto mondo, cioè nella zona dell'India, sapete quanto costa? costa 16 euro al mese, per noi 50 centesimi al giorno, meno di un caffè al giorno. Eppure con quei 16 euro quel bambino mangia, beve, si veste e studia. Pensate, con 16 euro nel quarto mondo. Quindi, sono tutte quante cose, sono tesori che ci monteremo in cielo e avremo la gioia di poter fare del bene sulla terra, capite? Si tratta di salvare una vita umana, di acciugare delle lacrime, capite? Una cosa bellissima, una partecipazione piccola all'amore di Dio, che è il contrario, purtroppo, dell'egoismo che caratterizza i grossi accumuli di ricchezze. Guardate che San Giacomo ha detto delle parole veramente impressionanti. Voi ricchi piangete, gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti mangiate dalle marmi. Il vostro oro e il vostro oggetto consumate dalla ruggine, e la ruggine si alzerà per accusarvi e divorerà le vostre carri con il fuoco. Avete accumulato tesori con gli ultimi giorni. È terrificante. Allora, noi dobbiamo comprendere, capite? Ci sono... La ricchezza non è di per sé stesso sinonimo di cattivella. Ci sono sempre state, nel corso dell'ospedale della Chiesa, delle persone che avevano molti beni, ma che li usavano anche molto bene. Lazzaro, che era il migliore amico di Gesù, non era un povero, aveva tanti beni, ma con quei tanti beni ha asciugato tante lacrime. Però il principio della ricchezza, come dire, come intesa dal mondo, del Dio soldo, cioè accumulo, accumulo, accumulo solo per me, accumulo, accumulo, e facce cosa, che non sanno più neanche come spendersi i soldi, capite? Questo non è compatibile con uno stile di vita cristiana. Anche perché sapete che nell'Evangelio Gesù, in un passato, chiama la ricchezza disonesta, quando dice procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché spesso le grandi fortune è molto difficile che non nascondino qualche piccolo o grande ingiustizia. San Giacomo, nella seconda parte della lettura, nomina, vi ricordate il Catechismo, uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ve l'hanno fatto bene, oppure il Catechismo, che siete qualche anno più grande di me. Qual è uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio? È defraudare gli operai del giusto salario. Che dice qui San Giacomo? Ecco, il salario dei lavoratori che hanno vietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grigami e le proteste dei venditori sono giunte nelle orecchie del Signore Onipotente. Sulla terra avete vissuto voi in mezzo ai piacere e ai delizi e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Attenzione che non pagare gli operai e chi lavora per non generare, è una cosa grave agli occhi di Dio. Io raccomando sempre alle persone, se c'è un poraggio, ma anche, capite, un artigiano, una persona che viene dal suo lavoro, un elettricista, un idraulico, che viene fatto al lavoro, appena venito al lavoro, pagano fino all'ultimo centesimo. Ecco, perché la giustizia e l'onestà, che oggi non sempre sono osservate, sono importanti agli occhi di Dio. Io ho conosciuto, eh, ho conosciuto dipendenti anche di aziende abbastanza grandi, che c'erano 3-4 mesi di arretrati. E questi mi raccontavano, eh, la principale non le paga perché ha detto che non c'è soldi, e poi non li troverai. Eh? Ma non te paga perché non c'è soldi? Cioè, capite che succede? Il principale fa fare la banca al poveraggio, con quello stipendio, c'è gampa. Caro principale, tu vai in banca, prendi i soldi, e fai fare la banca alla banca, c'è qualche interesse, paga gli operai. Capito? Cioè, e non è che poi la comunione con questi discorsi così, queste sono cose gravi, queste cose che non possono essere passate sotto tono e sotto gampa. Bene, adesso passiamo un attimo al mese di ottobre, devo un attimo prendere anche la comunicazione, abbiate un attimo pazienza. Sapete che il mese di ottobre è questo dedicato al Santo Rosario, e, guardate, io sono contento di queste belle, non si chiamano coincidenze, si chiamano due incidenze. Voi sapete che, spero che abbiate, vi siete già informati, quest'anno festeggeremo in maniera un po' più solenne, la Madonna delle Vittorie, che è anche, non è anche, è principalmente, sapete perché è stata vinta la battaglia di Levanto, c'è scritto nella Locandina che è stata realizzata, non perché l'esercito era forte, ma perché San Pio X ha affidato quell'importantissima battaglia all'intercessione del Rosario, fatto di Rosario a tutti i cristiani, e abbiamo vinto. Quindi, la festa della Madonna delle Vittorie, oggi, è un nuovo rivolgo, come si chiama, la festa della Madonna del Rosario, come si dice il 7 ottobre, perché? Perché il Rosario è il segreto per sbarcare le grazie da parte del Cielo, perché Dio non rifiuta niente e nessuna protezione a chi recita con un uomo e il Santo Rosario. Ottobre, sapete che nella Chiesa è proprio perché il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario, è il Mese del Rosario, per cui già di per sé siamo in vita di dire il Rosario tutti i giorni, che dovrebbe essere un'abitudine stabile per noi cristiani, ma in questo mese in maniera particolare io conosco persone che magari chi dice il giorno Rosario già, chi dice una corona del Rosario al giorno è invece il dottobre prova a dirne 2, chi ne dice 3 prova a dirne 4, chi ne dice 4 prova a dirne 5, conosco persone che hanno questa devolzione, proprio per onurare la regina del Santo Rosario e noi avremo una settimana intera e la Madonna sarà in mezzo a noi in tutti i rioni e davanti alla Madonna ricordando anche questa immagine è miracolosa, domenica prossima sarà una conferenza importante, ha fatto un miracolo grosso, ce l'abbiamo dentro casa e in un momento storico particolare, cioè in piena rivoluzione francese, voi sapete che poi sarebbero venuti anche qua a fare danni nel cassero moneta i napoleonici, l'hanno fatto danni anche qui dietro, anche qui dietro nel coro della chiesa, hanno mozzato tutte quante le guglie dei troni del coro dove c'erano i grifoni simbolo dei caetani, hanno fatto guai, la Madonna è scesa per proteggerci e noi celebreremo ogni sera il Santo Rosario insieme, arricchito di quello che adesso vedremo, poi io da quando sono arrivato dopo la Messa vi ho proposto a chi vuole perché chi non vuole può tranquillamente uscire perché ci sono cose propostative io sono sempre nemico delle cose obbligatorie e imposte di pregare un po' la Madonna e la preghiera a San Miguel Alcatro, va bene? questo significa il Papa prima vi dico quello che ha raccomandato ha chiesto a tutti i fedeli di dire l'Osario tutti i giorni nel mese di Ottobre per chiedere alla Madonna la protezione contro gli assalti del demonio concludendo il Rosario con la preghiera a San Miguel Arcangelo potreste già tutti conoscere a memoria e con un'altra antichissima tifona mariana su un presidium per chiedere l'aiuto di San Miguel e della Madonna in questo momento delicato che la Chiesa sta vivendo che penso non c'è bisogno di commentarlo perché sappiamo tutto siamo tutti quanti aggiornati vedendo i telegiornali vi leggo adesso proprio un ricato della Santa Sede Papa Francesco invita a pregare il Santo Rosario durante il mese di Ottobre il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli di tutto il mondo quindi è il Papa che ce lo sta chiedendo io ve lo riferisco in quanto sacerdote però sappiate che il Papa lo sta chiedendo a ciascuno di voi personalmente durante l'intero mese di Ottobre di pregare il Santo Rosario ogni giorno e unirsi così in comunione e in penitenza come popolo di Dio nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele di proteggere la Chiesa dal diavolo capite? il proteggere la Chiesa dal diavolo il diavolo esiste capite? non è che non esiste che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi la duplicazione del diavolo dividere noi da Dio e dividerci gli uni dagli altri nei giorni scorsi prima della sua partenza per i paesi impattici il Santo Padre l'ha incontrato padre Frederick Formos direttore dell'internazionale della Dede Mondiale di Preghiera per il Papa e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli invitandoli a concludere la recita del Rosario con l'antica invocazione sul Tum Presidium io nei prossimi giorni lascerò dei foglietti in chiesa già da domani e probabilmente raggiungerò alle preghiere che diciamo al termine della Messa quindi sotto la preghiera a San Giuseppe ci sarà l'antifona in latino sotto un presidio in italiano sotto la tua protezione cerchiamo rifugio un'antifona brevissima sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio non disprezzare le soffine di noi che siamo nella prova ma liberaci di ogni pericolo vergine gloriosa e benedetta fine della preghiera una preghiera brevissima ma potentissima quindi l'invocazione sotto un presidio e con la preghiera salga al cancro ci protegge e aiuta nella lotta contro il mare la preghiera affermata il pontevice pochi giorni fa 11 settembre in un'omedia a Santa Marta citando il primo libro di Giobbe è l'arma contro il grande accusatore che gira per il mondo cercando di non accusare solo la preghiera lo può sconfiggere e il rosario in particolare i mistici russi e i grandi santi di tutta la tradizione consigliavano nei momenti di turbolenza spirituale di proteggersi sotto il mando della Santa Madre di Dio pronunciando in vocazione sotto un presidio con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede a fedele in tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio ponga la chiesa sotto il suo manto protettivo per preservarla dagli attacchi del maligno il grande accusatore e renderla al tempo stesso sempre più consapevole delle colpe degli errori degli abusi commessi nel presente e nel passato è impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il mare non prevalca il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scrittata all'unitadicesimo non ve la leggo perché la recitiamo tutti i giorni al termine della Messa e dovremmo già conoscerla punto quindi questi capite qui Rosario invocazione sotto un presidio in preghiera a San Michele io penso probabilmente di aggiungere in questo mese alle preghiere dopo la Messa che sono sempre facoltative la preghiera a San Michele la facciamo già con un sacco di tempo anche l'invocazione sotto la loro protezione a me fa sempre tanto piacere vedere questi corsi perché insomma il Papa che chiede di fare a tutti la preghiera che la recitazione si fa già da tanto tempo e proprio in questo mese e proprio in quest'anno che noi stiamo facendo questa iniziativa particolare nuova appunto di andare a pregare grazie a Rosario come dice mi piace a Rosario tutti i giorni e noi potremmo farlo in forma comunitaria nei nostri rioni davanti alla nostra patrona all'immagine miracolosa della Madonna delle Vittorie più grazie di così per il mio sveglio dopo e penso che non si volesse avere noi ringraziamo il Signore e ci impegniamo a vivere con profonda fede fervore e devoluzione siamo notati Gesù e Maria e ci impegniamo a vivere